Uomini e donne. Maria De Filippi scioccata. Scelta clamorosa di Daniele Paudice. Il pubblico sconvolto. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nel mondo di uomini e donne, l'arrivo del nuovo tronista Daniele Paudice ha già scatenato un vero e proprio colpo di scena. Nell'ultima puntata trasmessa, Daniele non ha raccolto molti consensi tra il pubblico. A causa di un atteggiamento percepito come, troppo arrogante e presuntuoso. E per i suoi, colloqui che sembrano di lavoro, con le corteggiatrici. Nonostante le critiche, durante le recenti registrazioni del dating show, si è verificato un evento definito, clamoroso, dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Daniele, infatti, è uscito in esterna per la terza volta con la corteggiatrice Gaia. E sembra che tra i due le cose procedano bene. Tuttavia, il vero colpo di scena riguarda un'altra corteggiatrice. O meglio ex corteggiatrice, Beatriz. Beatriz, precedentemente non scelta da Brando, ha catturato l'attenzione di Daniele, che ha deciso di richiamarla in trasmissione. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, Daniele è rimasto molto colpito dalla personalità di Beatriz e per questo motivo l'ha convocata in studio. Tuttavia, l'incontro non è andato come sperato. Beatriz ha risposto con un, no, secco alla proposta di Daniele. Resta da vedere come reagirà il tronista napoletano a questo rifiuto e se ci saranno ulteriori sviluppi nella sua ricerca dell'amore all'interno del programma. Una cosa è certa. L'arrivo di Daniele a Uomini e Donne continua a tenere alta l'attenzione e la curiosità dei telespettatori. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.